Il professor Vito Peragini dell'Università degli Studi di Baria ha dedicato molte ricerche al tema della povertà e dell'inclusione sociale. Oggi a Firenze tante visioni si confrontano, qual è la sua idea, quale potrebbe essere la proposta giusta per fronteggiare questo grave problema sociale? Sì, io credo che ci sia una visione abbastanza condivisa che è emersa anche oggi in questo convegno, sia sulla fotografia della situazione della povertà e della disuguaglianza nel Paese. La povertà è aumentata negli ultimi anni per effetto dell'improvvimento complessivo, cioè della crisi, e anche per effetto dell'aumento delle disuguaglianze. Dall'altro lato c'è un sistema di protezione sociale che è particolarmente inefficace e iniquo, nel senso che redistribuisce poco, è incapace di raggiungere con efficacia i soggetti che hanno maggiormente bisogno e dunque è inefficace nel contrasto alla povertà. Anche su quale dovrebbe essere il tipo di misura, il tipo di politica, il tipo di intervento, c'è perlomeno a livello accademico, di ribattito pubblico, scientifico, una visione abbastanza condivisa sulla forma che la politica di contrasto alla povertà dovrebbe avere e non credo ci siano moltissimi dubbi e moltissime contrapposizioni. Si tratta piuttosto di avere una volontà politica di investire risorse su questo terreno. Questa volontà politica, lei viene dalla Puglia, evidentemente ha trovato ascolto nel governo pugliese perché lei ha dato un contributo per una proposta che sta per diventare legge in Puglia. Di cosa si tratta? Sì, quello che sta succedendo è che in assenza di una politica nazionale di contrasto alla povertà, la politica nazionale dovrebbe essere il livello ideale per queste politiche, diverse regioni si stanno attrezzando per politiche di tipo locale, di tipo regionale. Lo ha fatto in passato il Trentino Alto Adige con una misura molto interessante, il Fiuli ha approvato una legge. La Puglia è la prima regione a mezzogiorno in cui una legge viene proposta su questo terreno molto organica, anche molto ambiziosa. Si tratta, la legge è stata approvata dalla Giunta, adesso in discussione al Consiglio regionale sarà approvata in maggio in poche settimane. Quello che si prevede è una misura di contrasto alla povertà in cui vi è da un lato un sostegno economico alle famiglie in situazioni di disagio, dall'altro, volendo come conto prestazione, vi è un percorso di inclusione attiva. Cioè il beneficiario si impegna in un'attività di tirocinio lavorativo o formativo che ha una duplice finalità. Da un lato di attivare le persone, rendere più occupabili e anche in qualche maniera reintrodurli in un sistema di mercato di lavoro, un sistema sociale più in generale, e dall'altro anche la funzione di aiutare a selezionare i soggetti davvero bisognosi. È chiaro che la misura regionale andrà coordinata, e anche in questo c'è lo sforzo nella legge regionale, con le misure nazionali che si andranno a definire. Alcune già annunciate, stiamo in attesa di conoscere quali saranno i dettagli precisi delle misure nazionali. Nel senso che se, come pare, la misura nazionale sarà di tipo categoriale, limitata, cioè alle famiglie con figli minori, la politica del reddito di dignità in Puglia amplierà questa misura, nel duplice senso di ampliare la platea dei beneficiari e di aumentare il trasferimento economico ai singoli beneficiari. Questo è un po' il quadro. Esattamente che cosa prevede la proposta? La proposta prevede di dare un sostegno al reddito che ammonterà ad un valore di alcuni numeri di riferimento. Per una famiglia di 5 componenti si pesa un trasferimento di circa 600 euro. Per famiglie di diversa composizione, trasferimenti inferiori basati su una scala di equivalenza ISEE. Accanto al trasferimento c'è un percorso di inclusione lavorativa, come ne dicevo. Partecipano, possono accedere alla misura, tutti i nuclei familiari che hanno un valore ISEE al di sotto di 3.000 euro. L'ambizione è che sia però una misura universalistica, sottoposta alla prova dei mezzi. Cioè tutte le famiglie con ISEE inferiore a 3.000 euro potranno accedere alla misura, indipendentemente da altre caratteristiche familiari, lavorative, sociali. Quindi universalistiche in questo senso.